Io non sono riuscito a spiegarmi un perché, forse perché nell'anima mia si era andata accumulando una terribile angoscia per una circostanza che ormai era superiore a tutto quanto il mio essere, e precisamente la convinzione formatasi dentro di me che dappertutto nel mondo tutto è indifferente. Non c'era nulla. Nulla, nulla. Sul principio mi parve che molto ci fosse stato una volta, tanto tempo prima. Questo si manifestava nelle più minute bazecole. Non lo so, non lo so. Mi capitava di andare per la via. Mi capitava di passeggiare per la via. Io urtavo qualcuno, urtavo la gente, ma non perché io andassi fantasticando. No, no. Avevo smesso allora del tutto di pensare. Di un tratto pensai che se i lampioni a gas si fossero spenti dappertutto avrei avuto maggior conforto, mentre così con il gas acceso, il cuore, si sentiva più triste perché esso illuminava tutto ciò, tutto ciò, quel giorno non avevo proprio pranzato. Avevo sempre taciuto. Così.